Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo al microsoft visual c++ 2015 fino al 2022 quindi in questo caso se ti esce un errore del genere che serve così il microsoft visual riguardo al vcbredist 2015 runtime che bisogna installare sul tuo sistema operativo quindi una volta installato questo driver risolverai i tuoi problemi quindi in questo caso in descrizione ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina microsoft per scaricare così il programma eccolo qua visual studio 2015 scegli così la tua lingua metti italiano fai scarica installiamo tutte e due e facciamo scarica ed eccoli qua tutte e due eseguiamo come amministratore questi driver installa installa a me dice che è già installata un'altra versione del prodotto quindi non me la fa installare perché è già installata nel mio sistema quindi impossibile continuare l'installazione di questa versione quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare un'altra guida riguardo a questo vc ready se installare altri driver quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao